Grazie a tutti. I disoccupati italiani, i disoccupati che fino a qualche mese fa non esistevano, abilmente nascosti per anni come per magia. Ho 53 anni e personalmente durante i due anni di mobilità ho cercato un'occupazione, ho seguito dei corsi di formazione e aderito come LSU presso il mio comune, ma la situazione era grave in quel periodo, figuriamoci adesso. Concludo ringraziandola per il suo impegno che in questi giorni sta portando avanti a favore di una soluzione per il mondo del lavoro. Anche se le trattative vanno avanti a rilento. E questo è anche molto strano però. Quando si è trattato di togliere agli operai si lavorava notte e giorno senza sosta. Adesso non c'è nessuna fretta. Forse, ministro, era questa l'Italia da salvare per prima. Quella del lavoro, l'Italia migliore. Non certo quello dello spread. Lo spread interessa ai soliti pochi. Interessa a tutti quelli che festeggiano tutti i giorni con cavi... Grazie. 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 Grazie.